Sto sognando. No. Ho sognato che non saresti tornato più. Non è stato un sogno, vero? No, non lo era. Mi avevano proibito di vederti, ma... Ma ora... Io non so cosa tu abbia detto o fatto, ma hanno visto che hai mostrato grande coraggio e grande tenacia. E loro hanno cambiato idea. Quindi ora potete sposarvi? Che c'è? Voglio sapere. Non ancora. Avremo la possibilità di dimostrare che tra noi due può andare. Un periodo di prova? Se dimostreremo che la nostra storia non interferirà con il nostro lavoro, allora... Potremmo stare insieme. Ma se qualcosa va male, se ci distrarremmo l'uno o l'altra a discapito anche di un solo innocente... No, non succederà. Preoccupata? Quando lo imparerai? Io sono sempre preoccupata. Sono felice che Leo sia tornato, soprattutto per Piper, però... Lo so. C'è un damone sconosciuto in circolazione. Non diciamoglielo fino a domani. Hanno tutto il diritto di trascorrere una notte romantica. Non è vero, sorellina? Romantica. Turner. Ciao. Cole, che cosa stai facendo in ufficio alle due del mattino? E tu perché mi chiami in ufficio a quest'ora? Io avevo intenzione di lasciarti un messaggio per evitarti la noia di dovermi parlare. Perché non dovrei parlare con te? Ecco, non so. Nel caso tu mi abbia giudicato ubriaca o matta o tutte e due le cose... Ti preferisco come un mistero che io non vedo l'ora di scoprire. D'accordo. Io vado allora e... Viva il mistero. Ti chiamerò. E io ci sarò. Sì. E scoprirò il mistero delle streghe.